Bene, eccoci insieme anche oggi. Oggi abbiamo in studio Rita Maria Zobel, psicologa e psicoterapeuta. Insomma, con lei parliamo del Natale, però parliamo dell'altra faccia del Natale. Per la gran parte di noi, fortunatamente, insomma, il Natale è albero di Natale, presepe, luci, regali, festa, famiglia. C'è anche un aspetto però malinconico, perché devo dire che sono molte le persone che aspettano il Natale con una certa pressione, proprio perché in generale anche delle dolenze in qualche maniera nell'animo umano, se poi insomma il personale magari non è dei migliori. Detto ciò, abbiamo chiamato Christmas Blues questa puntata, sul suo suggerimento. Buongiorno, abbiamo chiamato Christmas Blues, perché Blues proprio significa to have the blue divos. Tu hai dei diavoli blu, che era la sensazione allucinatoria che avevano gli alcolisti. E poi il blues, insomma, la canzone. E poi nel tempo, invece dopo il 1900, quindi si è distaccato da questo significato, però è rimasto sempre con questo significato di tristezza, di malinconia e anche di depressione. E' una delle canzoni, cioè il blues è il modo di cantare dei neri americani. Dei neri americani, ma che poi ha avuto una sua evoluzione, quindi dopo il 1900, quindi di un lento, no? Con un ripetersi, una monotonia di note. Malinconia, blues. Questo della malinconia, perché come diceva lei, per il Natale è la festa della famiglia, quindi c'è molto questo risentire, mettere al primo posto la famiglia, ma nella sua eccezione di calore, di accoglienza, di vicinanza. E naturalmente le persone che invece hanno dei lutti, che sono soli, sentono come controaltare molto questo disagio. Cioè rimuginano e portano e vanno indietro invece a pensare al tempo passato, quando c'erano determinate figure e quando si poteva esprimere questi affetti. Le posso fare una domanda che può sembrare sciocca, ma verrebbe da pensare, tante solitudini insieme non fanno socialità? Cioè una persona sola insieme ad altre persone sole, fa comunità oppure resta solo? Questa è un po' la differenza di alcuni che un po' spinti da questa tristezza, cercano comunque, riescono ad avere quest'azione di partecipare con delle associazioni. Abbiamo anche attraverso il privato sociale in questo periodo un fiorire di occasioni, di cene, di partecipazioni. Sono utili perché avvicinano queste persone e fanno vedere anche altri in difficoltà, ma forse riportano il significato poi reale che è quello del Natale, quello dell'attesa, quello dell'accoglienza, quello dell'amore vero, un amore che non è legato allo shopping, a quello che si regala, ai festoni, alle luci, ma che è un significato di attesa e di condivisione. Perché giustamente qualcuno abbia qualcuno con cui poter condividere però. Sì, mentre molte volte ci si trova anche con un altro aspetto che incide negativamente sulle persone. Ci sono stati fatti degli studi statistici dove su due persone almeno una persona ha un tono dell'umore basso in questo periodo e poi altre che almeno una su sei persone ha crisi di insonnia proprio perché è stressata dal fare i regali. Questo di dover spendere quindi in questo momento di crisi economica, no? Ci sono, sentivo stamattina anche alla radio, si parlava di persone che hanno definito irregalabili, nel senso come possono essere i genitori oppure anche i coniugi fidanzati, dove uno non sa mai cosa regalare, un po' perché hanno tutto e perché forse sono anche un po' esigenti e tendono a fare delle critiche. Come raccontavano che adesso anche con il discorso del web molti che non gradiscono i regali li mettono su Instagram e poi fanno anche dei commenti. No, non solo in commercio. Perché ci sono quelli che li riciclano. Sì, oltre a riciclarli, ma anche dei commenti che non sono positivi rispetto a questo. Quindi c'è proprio come uno stress. Cioè uno riceve un regalo, lo mette su Instagram e ironizza. Sì, ai nostri tempi era cavaldonato, non si guarda in bocca. Adesso ci si guarda e si quantifica anche e ci si permette non solo di ricicliare, ma anche di fare. Quindi questo è proprio il significato sempre più economico che hanno le nostre relazioni. Quindi abbiamo la paura anche di dover partecipare a questi incontri familiari, a queste cene con persone conosciute, non sempre scelte. Per cui passare tanto tempo insieme e anche avere sul viso questo sorriso di felicità quando invece la persona può essere triste, può avere delle situazioni sue personali dove si sente costretta a recitare anche un ruolo che non sente. E questo anche provoca degli effetti stressogeni. Poi abbiamo delle situazioni, con le persone che sono molto più vulnerabili e quindi sensibili anche a questi momenti di condivisione relazionale, abbiamo l'aumento dei tentati suicidi e dei suicidi. Basta vedere anche prendere un treno, come a me è capitato, comunque fine novembre, fino alle festività, che molte volte, più di una volta, si è costretti a star fermi perché qualcuno si è suicidato oppure un treno che viene cancellato e questo c'è un incremento notevole nel momento delle festività. Adesso c'è anche questo problema, come dicevo prima, economico, per cui abbiamo proprio queste situazioni che nascono dalla perdita del lavoro. Ecco, persone che hanno perso il lavoro, persone che hanno perso una persona cara, che hanno questi momenti di sconforto per cui l'ultima razza è quella di farsi fuori perché proprio il momento della festa, vedere il vicino, vedere degli amici che non hanno queste problematicità, aumenta la differenza e anche il senso di vergogna rispetto alla situazione che uno vive. Certo, lei ci sta accompagnando al Natale con allegria, è chiaro. Avevo detto che era un blues Christmas, dove, ma anche su questo, ecco, c'è l'invito di non pensare solo al proprio benessere, ma invece di stare attenti anche alle persone che ci circondano, ma che possono essere appunto anche i familiari stessi, gli amici, avere una comprensione verso chi è un po' più schivo, verso le persone che un po' non apprezzano forse tutta la gioia che vorremmo proporre noi oppure coinvolgerli e avere un po' questa attenzione anche nell'invitare a parlarne, a capire quali sono i propri sentimenti, i sentimenti che loro hanno, questi sentimenti di tristezza, perché già il discorso di riuscire a parlarne con qualcuno vuol dire entrare in un rapporto empatico e quindi il sentirsi capiti, come anche il poter condividere la festa in un modo totalmente diverso, che non sia solo quello di andare in montagna, di andare a sciare, quello di spendere tantissimi soldi, ma invece quello di avere un'armonia e un'accoglienza, dove tutti si ritrovano e sono protagonisti. Grazie per queste riflessioni, mentre lei parlava, la stavo guardando con attenzione, stavo oggettivamente meditando e mi viene in mente l'immagine delle gare di equitazione, dove c'è un salto che si chiama Gabbia, dove ci sono tre ostacoli avvicinati, e qua abbiamo in effetti il periodo dei regali, dove sei comunque costretto anche a confrontarti con le tue disponibilità economiche. Poi c'è il pranzo di Natale, quindi la famiglia, e poi c'è anche il Capodanno, che è un altro momento in cui bene o male la solitudine pesa. In effetti, vista così, è un periodo di grande stress, non è un periodo di felicità come fortunatamente per la gran parte di noi ancora è il Natale. Sì, e il significato a cui diamo perché, ecco, anche il discorso, quello economico, sarebbe meglio, perché poi si danno anche dei consigli, cioè di partire con un'idea di budget, cioè che cosa dobbiamo spendere, perché ci sono persone che fanno anche dei debiti, per poter rispondere a dei regali, alle aspettative degli altri. E come anche il discorso di Capodanno, è quello sempre di un anno di bilanci, è sempre un momento dove ci si ferma, quindi chi ha un lavoro non va più al lavoro, questa vacanza, però il fatto di fermarsi e di rimanere anche inattivo, cioè è uno spazio che uno poi dedica un po' al pensare ma com'è andata quest'anno, cosa ho fatto, questi bilanci emotivi che non sempre poi ci vedono così vittoriosi o così anche insieme con, molte volte questo bilancio può essere, come dicevamo prima, anche di grande solitudine o di figli che sono via, anche c'è la depressione per il nido fuoto, i ragazzi che crescono e vanno via, oppure le separazioni, dei matrimoni, quindi ci sono tante situazioni particolari che in questo momento, come dicevamo prima, si acquiscono. Allora un'altra indicazione è quello di rimanere comunque abbastanza attivi, programmare delle passeggiate, programmare comunque delle attività e quindi non solamente il dormire oppure partecipare per chi può a questi pranzi infiniti dove anche questo aumenta poi il mal di testa, l'insonnia, perché abbiamo anche proprio questi, anche il corpo, naturalmente ci parla di questo disagio. Grazie a Rita Maria Zobel, psicologa e psicoterapeuta, grazie di cuore insomma per averci, in ogni caso ha portato dieci minuti di riflessione sull'altra faccia del Natale. Tanto auguri. Grazie. Buone feste a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.